Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Stiamo per guardare insieme un match esemplare, una punizione terribile nella difesa scandinava. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Roberto, Maria e Giovanni, tre nuovi abbonati alle mie video lezioni che trovate qui sul canale YouTube. Si tratta di una libreria che cresce mese dopo mese con lezioni su tutte le fasi del gioco, che conta già più di 34 ore di video, subito tutti disponibili per voi a soli 2,99€ al mese. Allora quale modo migliore per migliorare e per supportare il canale? Vi aspetto sempre più numerosi. E adesso concentriamoci sulla partita di oggi tra uno dei giovanissimi più famosi al mondo, l'argentino Faustino Oro, impegnato solo pochi giorni fa al torneo di Madrid. Al sesto turno Di Bianco affronta un altro maestro internazionale, lo spagnolo David Larigno Nieto. Like al video e partiamo subito perché il nostro, perché non ci piacciono i giovani, il nostro Faustino Oro apre con E4 e allora lo spagnolo risponde con D5, la difesa scandinava, Oro naturalmente cattura subito in D5 e la donna ricattura. Attenzione perché cavallo in C3 che attacca subito la donna è la mossa più giocata e la giocherà anche Faustino Oro. Tenete a mente però che in futuro studieremo insieme l'altra variante principale, cavallo in F3 che io prediligo per diversi motivi. Sta di fatto che Oro gioca cavallo in C3, donna sotto attacco. Noi sappiamo che la donna o si sposta in A5 o torna indietro in D6 o, un'altra idea che mi piace, torna indietro direttamente in D8. E allora lo spagnolo porta in maniera classica la donna in A5, D4 cosa fa? Si prende il centro libera dello sviluppo dell'alfiere Camposcuro, cavallo in F6, cavallo in F3 e qui lo spagnolo un po' mi sorprende. Perché C6 è la mossa più giocata. E invece arriva cavallo in C6, alfiere in D2, attacca la donna a raggi X, A6, mossa migliore, alfiere in C4 e senza questa C6... Ora naturalmente lo spagnolo l'avrà giocato un miliardo di volte questa apertura, ma il principiante, ma anche il giocatore medio, deve stare attento quando inizia a giocare questa scandinava a non farsi intrappolare la donna. Guardate che succede a giocare una mossa a caso come E6, naturalmente non giocata in partita, che il cavallo si sposta, attacco di scoperta sulla donna che non può tornare indietro, donna in A4, alfiere in B3, la donna è già intrappolata, non si salva con donna in B5, perché c'è il doppio di cavallo con scacco. Ritorniamo a questa alfiere in C4. Da un punto di vista teorico, per quanto riguarda la teoria, c'è l'interessante sacrificio del nero del cavallo in D4. Ve lo faccio vedere velocemente. Se cavallo che cattura in D4, perché qui il bianco deve essere preparato, naturalmente il bianco accetta il sacrificio, donna in C5, attacca due pezzi sospesi, e allora il bianco sacrifica l'alfiere in F7 con scacco, il re ricattura, cavallo sotto attacco si porta in F3, E5 pare la mossa migliore, donna in E2 arriverà alfiere in D6, il bianco rimane preferibile, ma questa posizione va studiata bene, e la partita da studiare è Berek contro Salgovic, 1-0 del 2022, quindi roba recentissima. Invece cosa fa il buon Larigno Nieto? Sposta la donna in F5, e allora il bianco a rocca corto, arriva B5, alfiere in D3 attacca la donna, e dopo nove mosse sono rimaste solo tre partite in database, due vittorie del bianco ed una del nero nel lontano 1996. 1996, lo spagnolo segue proprio questa partita, porta la donna in H5, e allora arriva cavallo in E4, la donna torna indietro in D5, e arriva qui la novità di oro, non cavallo in C3, ma torre in E1, mossa migliore, la partita dopo undici mosse diventa originale. Ora, si può catturare in D4? No davvero, sarebbe terribile, perché se cavallo per pedone, cosa è successo? Vedete, si è liberata questa diagonale, e allora cavallo per cavallo in F6 con scacco, e quando il nero ricattura, arriva un'infilata micidiale, alfiere in E4, che vince direttamente la torre. e allora cosa fa lo spagnolo? Gioca alfiere in F5, e allora il cavallo tre volte sotto attacco, torna indietro in C3, donna in D7 continua a proteggere l'alfiere, ma cavallo in E5 attacca il difensore, ho tenuto la donna di un pezzo sotto attacco, cavallo per cavallo, il pedone ricattura, con tempo, ma arriva all'intermedia, alfiere per alfiere in D3, il pedone C ricattura, il nero deve salvare il cavallo, lo porta in D5, dice tutto a posto? No, perché siamo arrivati al nostro quizzone, perché c'è un'idea molto bella, tematica, a disposizione del bianco, allora mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Cosa ha giocato il nostro Faustinoro? E6, vero e proprio sacrificio di pedone, il pedone F ricattura, però qui bisogna stare attenti, non basta lo scacco di donna, anzi lo scacco di donna non funziona proprio, perché vedete, dopo donna in H5 con scacco, il problema è che qui è tutto protetto, si può giocare G6, e quando donna in E5 attacca la torre, la torre si sposta in G8, e ora che si fa? E fondamentalmente bisogna continuare a giocare, il piano va cambiato. E allora, la vera e propria idea, è questa cavallo in E4, con l'idea di cavallo in C5, e di riprendersi il pedone con gli interessi, e sarà proprio quello che succederà, perché il nero, per sviluppare l'alfiere, gioca G6, cavallo in C5 attacca la donna, secondo attacco sul pedone, la donna si porta in D6, attacca il cavallo, ma tanto, il cavallo voleva catturare in E6, torre in G8, per poter sviluppare l'alfiere, donna in F3, connette le proprie torri, inchioda il cavallo del nero sulla torre in A8, e allora C6 è la mossa migliore, torre in A che va in C1, finalmente, alfiere in G7. Ora qui, se volete, vi faccio un secondo, un quizino, perché a disposizione del bianco, c'è un'idea tattica, micidiale, la vedete? Oh, non l'ha vista, manco oro, e questa, è una partita, a tempo lungo, classico, guardate che bella, anche, anche, si può fare, perché c'è qualcosa di particolare, fondamentalmente, la donna bianca, molto attiva, sacrificio di torre, e allora, donna per torre, deviazione, cavallo in C7, con scacco, e quando la donna cattura, donna per cavallo, vedete? Non si possono connettere le torri, e quindi, molto probabilmente, si riprenderà, la donna in, o torre in F1, F8, eh sì, perché, se no si perde pure l'altro, torre in F8, si riprende, la donna, la torre, in A8, con scacco, invece, cosa fa, il buon Faustino, gioca torre in C5, protetta dal cavallo, alfiere in E5, vuole vincere il cavallo del bianco, e allora, donna in H3, lo protegge, re in D7, lo attacca, una seconda volta, ma qui arriva, il micidiale, scacco di scoperta, cavallo in D4, scacco di scoperta, e il nero abbandona, perché, si perde un pezzo pieno, perché, dopo re in E8, considerata anche dal computer, mossa migliore, torre per pedoncino, attacca la donna, che protegge l'alfiere, se donna in D7, torre per alfiere, donna per donna, il pedone ricattura, e praticamente, il bianco, è rimasto, a parte con una posizione dominante, ma pure, con, un pezzo di vantaggio, allora, Faustino Oro, mitico giocatore, argentino, che poi è giovanissimo, come vedete, ha finito il torneo, imbattuto, ha fatto però, un po' troppe patte, per poco, non ha conquistato, una norma, da grande maestro, ma naturalmente, il tempo è dalla sua parte, io come al solito, spero che il video vi sia piaciuto, e come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, se vi piacciono i miei contenuti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere, e noi naturalmente, ci vediamo domani, con un nuovo video, a presto! Grazie a tutti!